Benvenuti a Italia Gossip Express. Prima di entrare nelle ultime notizie, un like e l'iscrizione al nostro canale sono segnali enormi di apprezzamento. Grazie di cuore a Sergio Resinovich, la cui relazione con la sorella Liliana è avvolta da un mistero doloroso. Sergio non ha mai accettato la spiegazione superficiale del suicidio come motivo della sua scomparsa. Convinto che dietro la morte di Liliana ci siano motivazioni molto più intricate, Sergio ha deciso di far sentire la sua voce rivolgendosi al questore di Trieste. La sua lettera non è solo un documento formale, ma una protesta chiara verso ciò che percepisce come conclusioni affrettate e poco ponderate riguardo al destino della sorella. Il percorso di Sergio non è stato facile. La sua battaglia per la verità lo ha portato a esaminare ogni dettaglio del caso di Liliana, mettendo in luce la fretta con cui le indagini sono state concluse dietro l'ombra di un presunto suicidio. Tuttavia, è stato un incontro inaspettato a rafforzare la determinazione di Sergio. Durante un dialogo privato, un investigatore gli ha mostrato delle immagini di un reperto potenzialmente legato a Liliana, alimentando ulteriormente la sua ricerca della verità che finora gli è stata negata.